Arrivano a Gubbio tre pezzi importanti, tre pezzi di ceramica che parla Neugubino perché sono opera di un genio artistico di Gubbio, Aldo Aio. Arrivano a Gubbio, non sono però tutti di Gubbio e il professor Ettore Sannipoli ci racconta innanzitutto come sono adesso arrivati a Gubbio. Sono arrivati a Gubbio perché sono stati messi all'incanto da una casa d'aste genovese che è la casa Cambi e per fortuna sono stati acquistati da un Eugubino e quindi sono stati ricondotti alla patria dell'autore perché sono tutti e tre dovuti ad Aldo Aio, il più importante ceramista Eugubino nel novecento, nato nel 1901 e morto nel 1982, però due di essi sono stati realizzati a Gualdo Tadino nella fabbrica Società Ceramica Umbra Paolo Ruboli che fu in essere fra il 1920 e il 1931 con due sedi, una a Gualdo Tadino e l'altra a Gubbio. Quella di Gubbio ebbe breve durata fino al 1923 circa, mentre l'altra durò fin poco dopo la crisi del 1929 e nella seconda metà degli anni 20, almeno secondo le notizie finora reperite, fu diretta artisticamente proprio da Aldo Aio. Ecco, partiamo proprio dai primi due piatti che appartengono a questa felice stagione di Aldo Aio all'interno della Società Umbra. Ricordiamo, Aldo Aio fu in quell'azienda gualdese davvero la punta di diamante, insomma, è stata per quell'azienda al momento con Aldo Aio di maggior fulgore? Senza dubbio, senza dubbio perché il giovane Aldo Aio era propenso ad assimilare molte delle novità, del panorama relativo a quelle che oggi chiamiamo arti applicate o arti decorative del tempo. Non va dimenticato che gli anni 20 sono un momento straordinario per la, diciamo così, componente riccamente ornamentale delle arti applicate. E Aio per l'appunto era perfettamente consciente delle novità di quel tempo che si manifestavano in molti luoghi. Faccio l'esempio celebre di Roma, per esempio. E nello stesso tempo lui teneva conto di, come dire, tendenze innovative come quelle nate con il Liberty, l'Art Nouveau e soprattutto con l'Art Deco ma anche in taluni casi con il futurismo. Lui riuscì a trovare una formula sua personalissima nella quale Art Deco con Reminiscenze e Art Nouveau si fondeva in una cifra personalissima. Va detto comunque che Aldo Aio nell'ambito della produzione della Società Ceramica Umbra realizzò anche manufatti di uno storicismo rivisitato, uno storicismo antico, moderno, ispirato soprattutto ad alcuni aspetti della cultura tardogotica o pseudorinascimentale italiana altrettanto interessante e bello perché poi quello era il gusto dominante. Però accanto a questo si fece promotore di una tendenza innovativa che si vede benissimo nel piatto appunto con le due antilopi o stambecchi non sono riuscito bene a identificare l'animale di riferimento ma la qualità naturalmente è elevatissima. Sono due antilopi rampanti, affrontate che si trovano ai lati di un albero dai rami penduli arricciolati come quasi fosse un albero della vita di climtiana memoria, no? E il tutto arricchito da lussi che qui sono molto tenui, sono moderati come bagliori, predomina diciamo l'aspetto di policromia. Nel contempo vengono applicate tecniche innovative per quei tempi, l'uso dell'areografo per esempio, no? che era stato promosso nella cultura del Bauhaus, la Repubblica di Weimar e fu accolto negli anni venti dagli artisti anche, diciamo così, delle nostre zone e fra i primi per l'appunto Aldo Ayo le nubi a pecorelle che si vedono sul fondo sono state realizzate proprio con l'areografo e l'uso di mascherine. È un piatto raffinatissimo, elegantissimo di cui si conosce perlomeno un altro esemplare a lustri più accesi conservato nel Museo della Maiolica Lustro Torre di Porta Romana ed una replica posteriore perché poi i ruboli, avendo a disposizione gli spolveri e disegni di Ayo replicarono, però si nota un po' la differenza in termini di tenuta qualitativa. Qui sia il disegno sia i lustri si sposano in maniera perfetta. Accanto un altro bellissimo esempio qui nella fattispecie è un pesce che naviga in queste acque e anche qui un esempio del lustro. Sì, non solo del lustro perché qua, diciamo, i riferimenti alla cultura latamente liberty sono ancora più evidenti nel pesce che richiama alcuni noti soggetti delle manifatture fiorentine ad esempio Chini eccetera e quindi ci sono precisi riferimenti ad un contesto più ampio tipicamente italiano. oltre a questo fatto noi abbiamo questa teoria di cavallucci marini sulla tesa che è strepitosa con un uso del lustro quasi, come dire, solarizzato non lo so, cioè sembra che si intensifichi nel contorno delle figure a confronto con il soggetto centrale ci sono queste onde sempre realizzate con l'areografo e con la mascherina che si ritrovano anche nei lavori di altre fabbriche ad esempio in alcuni lavori dei primissimi anni 30 della ceramica Rometti di Umbertide quando vi lavoravano Dante Baldelli ed altri illustri pittori del tempo e si notano delle partiture diciamo di questo genere. Aldo Agliò questa è la produzione all'interno della bottega ceramica gualdese e poi però Aldo Agliò è un artista che produce anche di suo cosa abbiamo qui? Qui abbiamo una delle sue prime prove autonome quando l'avventura con la società ceramica Umbra terminò iniziò per l'appunto una sua produzione con delle difficoltà tecniche iniziali non disponeva delle muffole con le quali si realizzano in terza cottura i lustri metallici e lo notiamo in questo piatto con una gazzella che passa dietro le spalle diciamo così del suo corpo un tronco con dei germogli dei polloni di sapore anche questo un po' orientale e lo notiamo qua perché qui non ci sono lustri qui c'è soltanto una lumeggiatura dorata dei riflessi dorati che si ottengono tecnicamente in maniera diversa non sottoponendo una terza cottura in ambiente privo di ossigeno riducente ma in ambiente ossidante si ottengono questa è la ceramica riflesso questa è la ceramica il termine riflesso oggi indica questo tipo di ceramica anche se è ambiguo perché è usato pure per i lustri la ceramica lustro invece è quella che abbiamo visto che abbiamo visto prima quindi nonostante queste difficoltà tecniche lui riesce in sostanza a superarle con la sua grande capacità d'artista e qui realizza un piccolo capolavoro tra l'altro lui era molto soddisfatto del disegno di questo piatto tant'è che fece stampare delle cartoline illustrate proprio con questa gazzella quindi lo conoscevamo attraverso queste cartoline lo conoscevamo attraverso una fotografia in bianco e nero che è presente nell'album personale giovanile di Ayo e lo conoscevamo anche tramite questa cartolina e altri due esemplari almeno io ne conosco altri due che sono uno era nella collezione appunto Ayo e poi è andata a finire è andato a finire agli eredi a alcuni degli eredi e non era in lustro né in riflesso era semplicemente in policromia ed un altro invece che è in una collezione privata di Gubbio ha la campitura di fondo dorata qui invece l'oro è stato inserito diciamo nella parte diciamo dove c'è il il pelame più più sottile mentre le chiazze la maculazione superiore è realizzata con una tecnica molto avanzata cioè graffendo scalfendo e asportando parzialmente lo smalto sembra quasi un closonnet identica memoria esatto come si può vedere anche nelle cellette dell'albero e anche in alcune parti delle antilopi è soltanto che ha come dire una propensione materica che anticipa dei risultati che sarebbero venuti addirittura dopo la seconda guerra mondiale anche qua c'è l'uso dell'areografo nella campitura di fondo e quindi sono riassumendo tre esemplari eccellenti della prima produzione di questo grande artista che noi conosciamo soprattutto e giustamente per la produzione dopo la seconda guerra mondiale ma che in realtà negli anni tra le due guerre ebbe modo di far valere tutta la sua grandezza come artista esordiente sia in Gubbio sia in Gualdo Tadino soprattutto nella ceramica ma anche nella pittura in altre arti applicate come il ferro battuto e quindi la parte iniziale del suo percorso stilistico è diciamo la vera sorpresa la critica d'arte gli ha reso giustizia perché oggi la critica riconosce Naldo Aion un grande artista la sua città Gubbio gli ha reso giustizia Gubbio fa a mio giudizio poco nel campo della ceramica e della ceramica d'arte e soprattutto in un momento difficile come quello odierno nel quale per una crisi del settore che ormai è da anni in essere e poi adesso con il Covid sarebbe opportuno che si concentrassero molte 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 più energie per promuovere approfondire la ricerca su questo settore e soprattutto fare in modo che la moria di ditte che ormai sono ridotte al lumicino questa emorragia si freni si fermi perché altrimenti rischiamo non solo di perdere una realtà produttiva importante in una zona in una città che ha dei quarti di nobiltà basta il nome di Mastro Giorgio Andreoli ma anche si rischia di perdere definitivamente un sapere un saper fare che effettivamente sarebbe più che opportuno mantenere vivo nei limiti del possibile anche perché molto è già stato purtroppo perso di Mastro Giorgio di Mastro Giorgio